Allora adesso ci sarà, chiedo a tutti i carri, i gruppi di spegnere i loro impianti perché il nostro Remosino che ha sostituito il sindaco questa settimana farà il suo tradizionale discorso speriamo che quest'anno sia un po' più tranquillo nei confronti di tutti i varesini dice già di no, quindi mi preoccupa e sottolineerà in rima le criticità della città Don e Tuzan, oman e fie, gente avarese, di tutti i castellani, di un centro e di paese Busi, mi saluti, la mia nabuzia, sa disi che mi piace trovarsi in compagnia al mosto sabbats grass, con tutti i varesi, sia giù, sia vecch, sia gran che piscinit sa sentia fa baldò, che mi ha d'apentis, per un quai di ogni tanto le buone divertis il carnaval al ventumana volta l'anno, un boff dove si passa a burla denti in tigra perché da questo è sempre in gran abundanza e che non ha l'intrigo per fare la penitenza però la mia tirata lunga, comincia subito dunque con i primi argomenti parli di bocci in terra, in giri viene un vagone, piccole, grandi, profonde, tutte le dimensioni in un giro in piedi o in bicicletta, che aveva pazienza che non ha detto un bin sfondato, la mia indecenza un vecchio per il bildeo, per mia rischia di qui una pezza malmettua, le mei che un vecchio ben fai e ci però, che in strada, vestime l'arlecchino o mei vacnegar pezzato il canton tizino fino alla trevalli, in strada, avevano tutti conciati una figura mia troppo bella per la città e al nostro carcindico un consiglio di verità quando si sarà sui bocci e si accudrano in strada che mi ha da perdere troppo tempo ma subito fai in maniera da fare del traffico con tutti i soldi e i soldi per terra senza zebra e mezzarie, si fa confusione con le macchine che si incontrano e con il pedo lei da quando sono un re che si parla della caserma dalla fine di laurea mi speri la conferma lei ha un gran spazio alla cultura dedicata in Gile almeno la promessa per la città ma quel che conta in mia i metà al quadrat quanto quel che viene dentro è la sua qualità bene che i cantieri possono essere la sua impressa lei è la mia speranza e dal sindico la promessa dal largo fliare è appena finita l'ora che per un po' di anni la fai tant' tribula speriamo che quel traffico si attira su un po' e poi al termine stessa pota da sda fa cari buzi di aver pazienza e educazione che è una roba che mi fai venire il mago per far dispettare la madonna in pra la cuna e il bambino del presepi è un figlio rubato non si fu l'ordamente alla provocazione e un torto insubito alla nostra tradizione però alla fine bambina e cuna in stai trovato mia tra i via ma sotto un'olive quel tacà un'altra gesa la madonna dedicava quella di Puarit che a San Fermo le situava che sia stai proprio il bambino a vorrei cercare un silpio che si è conforme alla sua povertà l'uomo al nas liber ma l'incadene in due se sia ma il diceva un pensatore della filosofia un quai vuon da incadena il fiore avuto l'idea in maniera che nessuno poteva portare via Dio vorresti mia che il bambino venia metto in cadene fin in lacuna appena nasce in due dì d'inche due domande che mia certezza sapo mia però fa senza la sicurezza in due centro della città sulla tutta la sera quando in giro che mia nissone a Sparta un quai leggera le capitano mi da passare a mia tarda ora in piazza a due garb ai baldini e veng paura per me parla da quei che si troveva per terra in distrazione di piazza da notte l'è una riera ma a parte della gente la cattiva educazione c'è anche un quai problema da manutenzione dici per esempio di marciapè di strada una frega da cestine e un bim ma è svuia se di luce di Natale nessuno l'ha avuto a dire l'insegno che quei di quest'anno in stai preferì il spettacolo le va stai grandiose da passare ma forse per Natale le va mia troppo d'età un bel giugno di disegno e color picciurare la bellezza del palazzo la fa risaltare sicura di giardite la mia pensare al decor chi la piazza ai cartei me la caccia al tesoro per far finire quei puoi al Cristo che la scappa indulcesco la porta da un bel toc sarada perché anche i genti da Varese gano i suoi sogni ma da buona quai volta gano i suoi bisogni la finisci chi? andei anzi a fa Baldoria e per la quei ora la sefodra memoria i rogni e malandà che a gengstomu risiat in due roban mazzan dan tanti feu da matt in due fino a parirò bei che mi rispetto per la natura per i don e i tuzanet Busi, viva saluti torniamo da lontano ma prima della salve vestringi a tutti la mano e teniamo in stasera un buon vicer davin alla salute vostra ed il vostro Re Busino allora il nostro Re Busino è stato piuttosto descrittivo questa volta però io volevo dire che dobbiamo anche considerare se guardiamo la televisione la sera quelle, diciamo, spettacoli che parlano un po' delle altre città dobbiamo essere contenti perché noi situazioni come quelle che ci sono a Milano, a Roma, a Firenze non le abbiamo e quindi vuol dire che anche la nostra amministrazione ha dato un buon colpo di mano e in più volevo ricordare che secondo me qui la critica la faccio io l'amministrazione dovrebbe ogni tanto osare cioè il mondo sta cambiando tutte le cose modificano noi abbiamo sicuramente come ha detto il nostro Re Busino la caserma Garibaldi abbiamo tante cose però bisogna pensare un po' di più ai giovani io tanti anni fa anche all'amministrazione precedente avevo proposto una cosa e vorrei sentire il vostro parere abbiamo un comune Palazzo Estense che è bellissimo io ho chiesto di dedicarne un piccolo pezzo per i giovani faccio un esempio i giovani che devono fare la festa del loro compleanno e che magari non vivono in una villa in un appartamento grande come tanti loro compagni di classe la possibilità gratuitamente prenotando di andare lì per fare la festa di compleanno e secondo me potrebbe essere una cosa allargata a tutti i giovani vuol dire che alla sera potrebbero anche andare lì con una birra che tramite l'accordo con la birreria che è qua di Varese da parte del comune potrebbe costare molto meno e se ci fosse un birattore artistico giovane e non politico potrebbe fare per tutti i giovani delle belle cose e questo secondo me è un osare in più teniamo conto che ci sono le serre bioclimatiche la possibilità per i giovani di chiedere dei finanziamenti in regione e alla comunità europea si potrebbe creare una struttura solo per loro che quando sono lì di sera i genitori sono più contenti perché potrebbe esserci un rappresentante delle forze dell'ordine che così controlla anche la droga e tutti i problemi che i giovani potrebbero avere quindi è una cosa nuova adesso andiamo giù per i premi sul palco che si sta bravo che si sta bravo che si sta bravo per i romani mi piace il palco La nostalgia di un passato, come la mamma mia ho lasciato. La nostalgia di un passato, come la mamma mia ho lasciato. Adesso cominciamo dai bambini, mi raccomando. Va bene? Facciamo la premiazione dei bambini adesso. Eccoci qua, pronti per le premiazioni. Pronti per le premiazioni delle mascherine. Voi sapete che quest'anno il concorso mascherina d'oro è stato fatto in via telematica, come nei precedenti anni. Ci auguriamo, e questo lo chiediamo al Reggio, di prendere provvedimenti per il 2025, di poter riprendere ancora la nostra tradizione con il ballo dei bambini, la venerdì pomeriggio. Così abbiamo tutta l'occasione per incontrare tutte le mascherine, far far loro sfilata e premiarle come mascherine migliori che si sono presentate. Per il premio. Vimili.